Si va verso la conferma della zona rossa nell'area metropolitana Pescara-Chieti e nelle rispettive province. Lo ha fatto intendere questa mattina a chiare note il presidente della regione Marco Marsilio, spiegando che i dati sui contagi e ricoveri sono ancora piuttosto alti. In Abruzzo è stata tra l'altro superata la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva, che ha toccato il 37%. Purtroppo devo dire che i numeri continuano ad essere molto alti e la pressione ospedaliera non solo non si allenta, ma negli ultimi giorni, anche se non in maniera vorticosa, c'è un rallentamento della crescita, ma continuiamo ad avere crescita nel numero di persone ospedalizzate. Questo va detto con chiarezza, perché il nostro principale parametro è sempre stato quello. Quando gli ospedali si riempiono non c'è solo un problema degli operatori e delle persone che si ammalano di Covid. Quando gli ospedali si riempiono siamo costretti a chiudere le altre terapie, a garantire soltanto le terapie tempodipendenti e quelle oncologiche, quindi a ridurre sempre più il diritto alla salute di tutti gli altri cittadini. E' questa la ragione per la quale, quando dobbiamo registrare una pressione del genere, siamo chiamati a fare delle restrizioni che sono dolorose, ma io spero e continuo ad invocare da parte del governo che è finalmente entrato in carica, ieri ha completato anche con i sottosegretari il proprio organico, che adesso non si perda più tempo e che quel decreto ristori che è da Natale, che viene annunciato, magari prima di Pasqua sia davvero operativo e possa consentire alle persone di tirare un sospiro di sollievo e di essere minimamente ristorate del danno economico che stanno subendo. Per quanto riguarda le altre zone rosse nell'Aquilano, tutto dipenderà da quelli che saranno i numeri da analizzare nel weekend. I dati vengono sottoposti a costante monitoraggio nel rapporto con i sindaci, quindi ieri stesso ho chiesto all'ASI in particolare, io ho avuto da due sindaci, non da cinque, perché mi pare che Ateleta abbia anzi invocato la zona rossa, quindi non diamo informazioni sbagliate. Ci sono due sindaci che hanno chiesto una revisione di questo provvedimento alla luce del fatto che è vero che negli ultimi c'era stata questa crescita di un certo fattore, adesso non sto qui con i tecnicismi, ma noi ci affidiamo ai tecnici che su base scientifica registrano un incremento dei dati e quindi in maniera precauzionale siamo chiamati ad adottare i provvedimenti. Soddisfatto infine il presidente della regione dell'aumento di posti letto nei reparti di malattie infettive e pneumologia del Santissima Annunziata, dove questa mattina c'è stata una breve cerimonia. Questo fa parte di quella rete potenziamento Covid che se avessimo avuto i poteri per realizzarla tra maggio e luglio quando venne fatto il decreto, oggi avremmo, come dire, già da lungo tempo messo in campo. Finalmente, avendo avuto i poteri a ottobre, nel pieno rispetto dei tempi, anzi con tempistiche brucianti rispetto alla normalità della pubblica amministrazione, noi stiamo consegnando nuovi posti letto che proprio in questo momento arrivano, come dire, come acqua per gli assetati. Quindi è una situazione molto pesante oggi la pressione sanitaria e poter mettere a disposizione questi 13 posti è davvero molto molto importante.